L'opera è edificante, è significativa, ma anche la coniugazione di un elemento geniale, e cioè la poetica di Tomas Saraceno, il lavoro, per dirlo in modo semplice, sui ragni, sulla natura, sulle tele, sulla tessitura, e dall'altra un elemento dogmatico, e cioè un confessionale. Usa un arredo, un suppellettile delle nostre chiese, della nostra tradizione. In questo ha un obbligo e una genealogia ben precisa, e naturalmente l'unione della propria creatività, del proprio percorso, del proprio genie, e dall'altra alcuni obblighi apostolici, cioè utilizzare un confessionale, fa sì che l'opera sia di natura come deve essere un'opera, come è il giudizio universale di Michelangelo, come Caravaggio, come tutta la tradizione dell'arte, è un'opera inevitabilmente non propriamente ortodossa, ma con delle inquietudini eretiche, e nell'eresia sta la sua verità e anche ciò che ci smuove maggiormente. Nel confessionale di Tomas Saraceno, l'avete compreso, l'avete visto, l'avete sperimentato, vi è all'interno la tessitura articolata, cosmica e nello stesso momento lillipuziana di una ragnatela. Per usare un gergo popolare, il confessionale, il seggio, per l'assenza del ritorno di Cristo sulla Terra, per l'assenza di parte della cristianità del cristianesimo, per l'allontanamento dell'umanità dalle pratiche di devozione, ha fatto le ragnatele. Al centro dell'opera vi è un'assenza, manca qualcosa, perciò la prima sperimentazione è l'orrore profondo, religioso, spirituale, che al posto del sacerdote, del mediatore di Dio, o di Dio stesso, pensate tutta la filosofia della morte di Dio, si sono fatte le ragnatele come in un luogo disabitato. Perciò la prima contrizione lecita, che riguarda la nostra genealogia spirituale e devozionale, rispetto ai padri, rispetto alla nostra cresima, la prima comunione, cose lontanissime, infantili, favole, Leopard direbbe le nostre fole, rispetto a questo la prima contrizione è l'assoluta ormai nostra mancanza di pratica confessionale. Francesco d'Assisi nel 1200, predicando agli animali, predicando agli uccelli, predicando ai ratti, ai ragni, ai lupi, ha trasferito il Vangelo dagli ebrei, ai romani, agli animali. Questo significa che al momento attuale, dal 1200, la Chiesa non è la nostra umana, ma è la Chiesa, è composta, la Gerusalemme terrestre, dagli animali. Dovranno rivangelizzarci e convertirci loro. Questo significa che quando Thomas Saraceno inserisce nel confessionale dei ragni che tessono una ragnatela e c'è una ragnatela, noi in quel momento ci confessiamo alla natura. Intanto perché dal punto di vista francescano la natura ha in questo momento il potere spirituale del mondo, rispetto addirittura alla Chiesa ufficiale. È normale che le opere d'arte siano eretiche, che abbiano queste inquietudini. Ma dall'altra c'è il fatto che noi confessiamo anche i nostri peccati nei confronti della natura. In tutti i comandamenti veniva a mancare onorare Dio, l'unico nome, l'unico Dio, onorare il Padre, non desiderare la donna da altri, onorare addirittura il patrimonio degli altri, non rubare, onorare la vita degli altri, mancava l'onore nei confronti del cosmo e della natura. Quando da penitente colui che siede nel confessionale di Saraceno e si rapporta a questa oscurità e a questo mondo ancestrale, primario, naturalissimo delle tele, in realtà, con tutta la sedimentazione che vi ho detto, l'assenza di Dio, eccetera, eccetera, fondamentalmente onora e chiede perdono del fatto che noi siamo stati calpestatori e siamo calpestatori del Tempio della Natura. Perciò altro valore altissimo del confessionale di Saraceno, e questo è il dato edificante, e che ci si confessa attraverso la mediazione di un ragno, del mondo, del popolo, dei ragni, ricordate che tutta l'angelologia è bestiale, cioè avere a che fare con un ragno e avere a che fare con un cherubino, con una santa caiote, con un serafino, appartiene all'ordine angelico, gli angeli sono di natura bestiale. Ogni volta che noi ci relazioniamo spiritualmente, non materialmente, con un animale, fondamentalmente ci relazioniamo con un essere e una creatura che ha postura e configurazione angelica. Perciò dentro il confessionale accade che riconosciamo, dovremmo riconoscere, il nostro personale peccato, che poi diventa il peccato pubblico, nei confronti della natura. Grazie alla fondazione, innanzitutto, che mi ha invitato a presentare un po' del territorio, insomma, a rappresentare i ragni, gli animali e gli insetti del territorio. Oggi abbiamo fatto un giro e quindi abbiamo avuto l'occasione anche di far conoscere, insomma, in un territorio, animali che abbiamo noi. Quindi sicuramente ringrazio la fondazione per l'invito, ma ringrazio l'autore, l'artista, perché ci dimostra come anche l'arte può contribuire a valorizzare la biodiversità. Quindi le specie, anzi, proprio quelle specie che magari vengono viste sempre male, normalmente. E sicuramente è opportuno questo, proprio in un territorio che per la sua diversità ecologica ospita un patrimonio di specie animali e vegetali veramente quasi, non dico unico, però sicuramente raro in giro per l'Italia e l'Europa. Per cui sicuramente questo patrimonio enorme di specie animali e vegetali che probabilmente nel tempo è stato un po', diciamo, trascurato per via dell'eccezionalità sicuramente anche storica e archeologica del territorio, che sicuramente è più conosciuta rispetto al patrimonio di biodiversità e quindi sicuramente è occasione oggi di invece portare un po' più su questo argomento e quindi conoscendo una piccolissima parte, stasera vi faccio vedere tre ragni della Murgia, quindi ragni abbastanza comuni però, diciamo, tra le specie un po' caratteristiche. Poi, dicevo, mi sono già scusato con l'artista perché ho provato a trovare un senso artistico e non è il mio lavoro, naturalmente, è un senso artistico a questi ragni. E questa, insomma, invece è una specie, le due specie precedenti sono specie che frequentano ambienti ipogei, non proprio grotte, però spesso, almeno una delle due, il grande tessitore, lo troviamo anche nei sassi. Probabilmente l'abbiamo trovato anche nella chiesa dove è esposta l'opera. Mentre questo è un ragno che è proprio caratteristico della Murgia, degli ambienti della Murgia. E' la vedova nera. La vedova nera è un ragno più famoso, però quello, diciamo, tropicale, chiamiamolo così, è un ragno molto pericoloso per l'uomo. Queste appunto sono tre di tantissime, tantissime specie, sia di ragni, di insetti, ma anche di fauna maggiore che abbiamo nel parco. E appunto ringrazio l'occasione di averli potuti presentare in modo da, diciamo, sempre più riuscire a parlare di conservazione, di biodiversità, coniugandola con qualsiasi attività dell'uomo, dall'industria all'arte, a tutto quello che poi l'uomo fa, però lo dovrebbe fare appunto in una maniera sostenibile. Grazie. Dunque, come avrete notato, un'opera come quella di Thomas Saraceno permette uno sguardo multidisciplinare, che è la ragione per cui i campi del nostro parlare sono effettivamente apparentemente distanti tra loro. Sono molto felice di prendere la parola dopo aver visto questi tre ragni, perché questo mi permette di avvicinarmi ad un percorso che vorrei proporvi, che in un qualche modo è una sorta di viaggio, spazio temporale, fatto proprio attraverso una macchina del tempo che io consiglio precisamente il confessionale. per cui entrare in quel confessionale non è per me un luogo dove noi dobbiamo confessarci, per me è un luogo dove noi dobbiamo capire come comunicare con l'altro, laddove l'altro è l'altro da sé assoluto, l'altro è il ragno, ma l'altro sono anche questi sassi, questa cava dentro cui siamo. Quindi ho avuto la percezione che stare lì dentro significava tra l'altro rimanere io stessa completamente smentita rispetto al tipo di ragnatela che io pensavo di vedere. La ragnatela, come giustamente dicevamo poc'anzi, è qualcosa che ci dà l'idea di vecchio, qualcosa che è così invecchiato che ha prodotto ragnatela. Lì invece ci sono dei fili di luce. Chi è entrato avrà visto che sono luminescenti e quindi sono davvero dei web, la spider web, il web e la rete, la rete digitale, sono quelle connessioni che evidentemente siamo invitati ad attivare per poterci mettere in discussione, per poter rimettere in discussione il nostro linguaggio, per poter rimettere costantemente in discussione soprattutto i pregiudizi attraverso i quali abbiamo costruito delle gabbie dentro cui siamo e che crediamo che non possano essere più modificate perché l'universo ci sta facendo capire che effettivamente abbiamo sbagliato e che forse non ci sarà ritorno. Io non credo che non ci sarà ritorno, ma dobbiamo come esseri umani metterci profondamente in discussione e fare un passo indietro e quindi entrare in quel confessionale chiedendoci che cosa sto guardando perché è sormontato da un ragno e questo significa che possiamo dare sacralità, profondità e anche ascolto a qualcosa di cui noi non conosciamo neanche il linguaggio e questo è un aspetto molto interessante di tutto il lavoro di Thomas, ma questo in particolare qui a Matera che è vero che è un luogo dove si sono fermate tante persone a sentire il peso del tempo e lo spessore della pietra. Ecco, questa modalità di accostarsi all'altro e come dicevo poc'anzi, l'altro inteso come altra specie, è un modo per fare, per avere familiarità con qualcosa che noi abbiamo sempre evacuato. il ragno lo cacciamo, qualcuno dice che porta sfortuna ma comunque lo vuole cacciare. Ci sono tante cose che noi mettiamo da parte perché le abbiamo escluso nella costruzione della città moderna, la natura è completamente fuori. Se facciamo entrare la natura alle volte ci entra per disturbarci, ovvero alle volte entra perché è uno spazio che teoricamente sarebbe anche suo ma che noi abbiamo colonizzato perché da quando l'essere umano ha messo piede sulla terra anche in epoca pre-tecnologica la tecnica era semplicemente appropriarsi dello spazio e ricostruirlo, rigovernarlo. Dunque penso che vi sia una fortissima necessità di familiarizzare con l'altro e per familiarizzare intendo proprio, lo dicevamo poco fa, poco prima, fare famiglia. Cioè se abbiamo dei luoghi che per noi sono dei luoghi a cui siamo molto legati, probabilmente siamo più legati a passeggiare in alcune strade di queste dove veniamo ispirati da qualcosa di forte piuttosto che andare ad incontrare un parente di sangue col quale non abbiamo alcun rapporto e non c'è alcuna affinità. Questa è una modalità di fare un passo indietro come esseri umani, pensare che non tutto quello che abbiamo costruito e il modo attraverso cui l'abbiamo ingabbiato ci ha permesso di essere a nostro agio e sono diversi anni che abbiamo questa urgenza di rimetterci in ascolto. E l'ascolto che ci propone questa opera che tra l'altro mi ha fatto venire in mente quel bellissimo romanzo di Calvino Il sentiero dei nidi di ragno che forse qualcuno ricorderà di aver letto che è un romanzo in cui questi bambini hanno questo mito dei nidi di ragno ma non esistono non li troveranno mai perché non ci sono però è l'immaginario prodotto da questi nidi che probabilmente dovevano fargli paura ma nello stesso tempo li attiravano e con questo tipo di stupore che penso che dobbiamo ricominciare a guardare al mondo e attraverso queste opere possiamo farlo con anche una sorta di crisi interiore cioè non è detto che ci dobbiamo necessariamente confessare io penso che verremo interpellati a riguardare intanto il nostro immaginario del ragno e a pensare cosa vuol dire fare rete penso che l'aspetto reticolare sia quello che per quanto mi riguarda mi ha parlato di più è questa possibilità di uscire dalla gabbia del linguaggio perché il ragno è uno di quei rari animali che produce un suo linguaggio un linguaggio fortemente artistico e ogni ragno produce delle forme differenti alcune più fitte l'avrete visto chi è entrato che non è una ragnatela regolare o univoca che prende soltanto uno spazio o che si rama in un certo modo ed è luminescente ecco questa luminescenza mi ha molto stupito perché non me l'aspettavo e mi ha introdotto in un contesto di imprevisto e penso che sia proprio l'imprevisto quello con cui dobbiamo sempre di più avere a che fare mettendoci in discussione e provando anche a sgrammaticare il linguaggio che adoperiamo a lasciarci divenire anche ragni divenire ragno significa che è chiaro qui siamo in un luogo dove dobbiamo essere seduti i composti però abbiamo evocato prima l'aspetto dionisiaco se pensate che nella cultura appunto del tarantismo il simbolo più forte che poi ha prodotto anche diciamo una sua mediatizzazione molto popolare nella notte della Taranta è dato dalla danza e il ragno esprime precisamente una sorta di danza e quindi forse a passo di danza che dobbiamo ricominciare ad avere lo stupore del mondo questa è stata la mia più potente percezione che ho ricevuto nel rimettere in gioco tutta la semantica legata al ragno a partire dall'idea di rete e soprattutto di rete come web e che quindi in italiano si funziona rete digitale ma in inglese abbiamo ancora più compresenti questi due aspetti soprattutto in ottica ecosofica e postumana grazie io voglio lasciare la veste dell'antropologo ricercatore intellettuale un po' come il ragno si libera dell'esoscheletro per sfoggiare un ecco una veste nuova vorrei parlare di me magari perché sono qualcuno una persona un po' egocentrica ma soprattutto perché me lo hanno suggerito i ragni di Tomas Saraceno sì entrando nel confessionale mi sono lasciato amagliare da queste meravigliose architetture così belle così fragili anche comunque il primo aspetto è quello anche della fragilità la loro luce come lo diceva Claudia bene cosa mi hanno suggerito questi ragni mi direte ebbene mi hanno suggerito di riconnettermi con questo territorio della Morgia di connettermi con una storia al contempo sociale culturale familiare ma anche individuale i ragni mi hanno invitato a cercare cosa io ma anche cosa noi tutti e tutte stasera abbiamo in comune con i ragni ebbene due aspetti sono emersi da questa riflessione la prima è la materialità della ragnatela e ovviamente la sua immaterialità e per questo per illustrare questo questo pensiero ho voluto portarvi un oggetto che riunisce questi due aspetti religiosamente Grazie. Ecco, questo artefact, questo oggetto bellissimo, ma anche molto umile perché fa parte della cultura del sud, quindi un sopratavolo così di pizzo diciamo, che è appartenuto a mia madre. Mia madre che è venuta a mancare praticamente esattamente un anno fa e quindi mi sono trovato in questa situazione come qualsiasi persona che perde un caro, una persona cara, di dover andare a svuotare gli armadi. Ne ho trovati di ragni tantissimi e ho trovato delle scatole mai aperte con tutto questo corredo, questo è un pezzo, ne ho trovate decine di questi pezzi, ecco di pizzo, anche ricami, alcuni anche fatti da mia madre direttamente. Allora, vi tolgo un dubbio immediatamente, mamma non aveva nessuna confidenza con i ragni, se ne vedeva uno lo ammazzava subito. Ma allora, perché vi parlo adesso di mia madre, di questa mamma che uccide i ragni infatti? Perché mi sono accorto che infatti mamma condivideva qualcosa di fondamentale con i ragni. Che cos'era? Era la stigmatizzazione, questo è il concetto magari che mi ha il più anche fatto riflettere. La stigmatizzazione, quindi è stata una donna, una donna povera, anche di questo territorio, cacciata, come un ragno, come gli abitanti dei sassi, cacciata, emigrata, si è ritrovata anche lì in situazioni di stigmatizzazione, di umiliazione. E quindi ecco, questo copritavola, anche tutta questa storia, per me mi ha riconnesso con il filo della memoria, un filo che è anche fatto di queste sofferenze. Sì, no, tantissime grazie a tutti, veramente non mi sarei immaginato tutte le cose che vi siete immaginate voi oggi, veramente è un onore gigantesco, perché la vostra intelligenza, fantasia, conoscimento è molto più superiore di quello che io mi potevo immaginare. Quindi, ma a me mi sembra questo, no, mi sembra che alla fine è unire queste immaginazioni, no, e poter ascoltare gli altri, e poter costruire qualcosa assieme che io non mi avrei mai immaginato. No, perché veramente delle cose personali, delle storie, molte volte di Occidente, o come Claudia tu hai condiviso, e con tutti i commenti, con tutti i vostri, che continuano ad avere per me fede su questa cosa che se ci lasciamo andare un pochettino, possiamo costruire qualcosa molto più potente, più grande di quello che io stesso mi posso immaginare. Lo dico umilmente. Quindi, per me, quello che mi fa sempre un po' di temore, mi sente un po' scomodo, che sono sulla sedia, quando dice l'opera di Saraceno, l'opera di Saraceno, cerco nei crediti ultimamente di dire, sono le Ragnatele, i Ragni e Tomassa, non so in che forma riuscire a veramente dare onore, a poter dare spazio e riconoscimento a che le cose molte volte sono costruite in una forma che non c'è questo individualismo, forse, geniale, di un artista, di un ragno, che riesce a fare qualcosa che nessuno può fare. Mi sembra più che questa cosa, come l'opera, anche ho difficoltà a tutto il tempo a pensare che questo è un confessionale, perché una delle predisposizioni anche era pensare che è un'altra cosa, che forse doveva dimenticarsi questo nome e forse oggi giorno attraverso tutte queste discussioni poteva forse, anche no, è una chiesa sconsacrata, non è più una chiesa, è un'altra cosa. Forse il confessionale anche riesce a fare un'altra cosa oggi, e vedi che io lo torno a chiamare confessionale. Quindi mi piacerebbe fare questo esercizio tra tutti, come lo possiamo fare, no? Chi nome dovrebbe avere? Cosa potrebbe succedere se ci immaginiamo che una certa ritualità adesso più sincretica, meno monoteista, quali dovrebbero essere questi riti, queste liturgie, queste forme di stare assieme. E forse anche perché anche con la fondazione pensiamo anche come questa costruzione sincretica da vari miti, mitologie, narrative, storie, rituali, come stavamo leggendo, è così variegata, è così diversa in ogni cultura, cercare di veramente, di espandere il più possibile la possibilità di incorporare anche, no, culture che molte volte non siamo troppo coscienti, no, e culture che molte volte non sono presenti, forse quando cerchiamo di ricostruire qualche narrativa, no. In quel senso sì, sono ogni volta più vicino nel lavoro di avvicinarmi proprio a persone, a storie e a culture e a paesi che trovo una forma di vita, una forma di relazionarsi con altre specie, una forma di relazionarsi tra di loro che mi appassiona terribilmente e che molte volte non trovo più nel posto dove sto vivendo oggigiorno. Quindi per me questa profonda ammirazione quasi, no, di cercare di capire di che forma vivono, no. E poi se uno lo spiega, per quello finisco, domani chi vuol vedere il film, con queste comunità che veniamo lavorando da più di dieci anni nel nord di Argentina, in Jujui, che soffrono l'estrazione del litio, con queste comunità in Camerun, in Sommier, quando abbiamo speso da più di cinque anni adesso cercando di capire questo piccolo villaggio veramente si organizza attraverso il conoscimento, l'intelligenza di questi ragni che sono consultati sempre attraverso questo set di carte e che il ragno, anche voi dovete pensare che se per esempio Claudia commette un crimine e il divinatore, sette divinatori diversi consultano sette differenti ragni e se i sette ragni dicono che Claudia è colpevole, Claudia va in carcere. Quindi il ragno veramente ha un potere giudiziale, giuridico, come nella Corte Suprema che veramente aiuta a organizzare anche in una forma molto pragmatica anche come questo villaggio si organizza. Non è una cosa solo metaforica e che proprio prende precisione. quindi il benessere del ragno, perlomeno quello che ho sperimentato in Sommier Camerun, è molto venerato, è molto riguardato. Quindi quando parlare di arachnofobia, là è quasi come un mito che è totalmente alieno, non possono immaginarsi che c'è una fobia a un animale così venerato e rispettato, no? Quando oggi sembrerebbe che solo artificial intelligence o l'intelligenza artificiale è solo quella che può forse, c'è una spider web intelligence, no? Che mi sembra che molte volte funziona. Per lì ho in numeri anche, non so, più statistiche, quelli che gli piacciono più pensare in una cosa più scientifica, che è il mio lavoro sempre all'inizio e continuo a essere, cerco di tessere tra tutte queste cose, no? Sono normalmente chiamate popolazioni indigene, first nation people, che rappresentano oggigiorno il 5% delle popolazioni nel mondo, no? Queste popolazioni indigene, il 5% della popolazione nel mondo, che sono coloro che riescono a mantenere e preservare l'80% di tutta la biodiversità di questo pianeta. Quindi quando cerchiamo delle tecnologie, quando cerchiamo dei rituali, quando cerchiamo, e non è solo per romantiggiare cose che forse esiste, esiste una cultura, esistono popolazioni e se valutiamo, siamo consapevoli che la manutenzione di questa biodiversità è così fondamentale anche per la vita di tutti, e quando capiamo di tutti, non solo di umani, su questo pianeta è una cosa che a me mi affascina ogni volta di più. Quindi per quello vado ancora e dico come riuscire a espandere adesso su questo sincretismo che vogliamo prendere e vogliamo tessere tra varie culture, che ognuna può, come diceva Bruno Latoura, anche un amico che condividiamo con Salvatore, e credo che con tanti di voi, dobbiamo ri-ensemble, come tessere di nuovo, e non tutto è positivo da ogni credenza, da ogni cultura, però cerchiamo di prendere gli aspetti forse anche più positivi e come ensamblare, come cucire anche queste nuove sincretiche conoscenze senza avere una posizione troppo pre-proderane, è una sfida molto grande, quindi credo che questo lavoro è un invito anche a voi, di portare a ognuno di voi queste storie, queste anche personali, anche cercare di vedere come riuscire a calibrarle, come riuscire a costruire qualcosa che ci possiamo, come dicono anche forse gli attivisti, molte volte cambiare le, don't change the climate, change your habits, non cambiare il clima cambia i tuoi abiti anche, e quindi atteggiamenti, vabbè lo lascio così, mille grazie. Grazie a tutti.